Buonasera, è stato quotidiano il presidente di Camera di Commercio Foggia Damiano Gelsomino e patron di Reggio Hotel Manfredonia. Allora Presidente, c'è un rinnovo di presidenza per la Camera di Commercio, si parlava di schieramenti, si leggono un po' di cose, un po' di rumors, si parla di sigle sindacali diverse, ma qual è la convergenza e su quale nome in particolare? Io penso che nell'ultimo periodo ci sia una convergenza verso un candidato presidente, però tutto questo viene rinviato fra qualche mese quando usciranno i numeri effettivi da parte della Regione Puglia, perché la Camera di Commercio ha inviato alla Regione Puglia tutti i numeri delle associazioni di categoria, e quindi si attenderanno questi risultati per cui eleggere il nuovo presidente. Bene, parlando proprio di numeri, qual è il trend, che cosa aspettarsi per la prossima estate che arriverà da un punto di vista dello sviluppo e anche sviluppo del turismo? Come sta procedendo l'economia del territorio? L'economia del territorio, il turismo, noi sappiamo benissimo che il turismo è un asset importantissimo economico del nostro territorio e quindi va assolutamente sempre di più alimentato, sviluppato, monitorato e che ci siano investimenti in questo settore, perché è un settore, ripeto, trainante della nostra economia. Il trend è un trend abbastanza, un po' per tutta la Puglia è un trend positivo, spero che quest'anno i numeri siano migliori di quelli dell'anno 2023. Il 2023 è stato un anno abbastanza importante, quindi possiamo essere soddisfatti. Quindi ci apprestiamo a questo nuovo anno con l'auspicio che sia migliore del 2023. Da quello che si percepisce il governo sta dando una forte sterzata anche per ciò che riguarda i mutui, si respira un'area di rinnovamento. Possiamo essere fiduciosi oppure ci sono dei segnali che potrebbero invertire la tendenza attuale? Assolutamente sì. Devo dire che la regione Puglia è stata una delle regioni, dal post-Covid, è stata una delle regioni più virtuose a livello nazionale. Ha messo in campo centinaia di milioni di euro proprio per aiutare un po' tutti i segmenti economici della Puglia. Penso che quello che è stato fatto è stato un passo importantissimo perché ha dato la possibilità a tante aziende di investire, di rinnovarsi. Praticamente questo è un momento che uno lo deve cogliere, ma lo deve cogliere in senso buono per poter far sì che tutto questo si tramuta in sviluppo, occupazione e ricchezza. La settimana, qualche settimana fa, in Camera di Commercio abbiamo presentato con l'assessore dell'Inoce e con l'assessore piemontese i Minipia e quindi questa è una maggiore attenzione che la regione Puglia, ripeto, sta dando agli imprenditori e un po' a tutta l'economia della Puglia. Quindi sotto questo aspetto non possiamo assolutamente dire nulla perché anzi dobbiamo cogliere queste opportunità. È normale che l'imprenditore deve investire, poi aiutato da questi elementi sembra, nello stesso tempo ha la possibilità il territorio di usufruire sempre di più di questi giorni. Quindi l'invito che si fa ovviamente è sempre quello di spingere a che il territorio si sviluppi e anche crea i nuovi sicuri imprenditoriali. Guardi, io lo dico da decenni perché ho qualche anno, io dico sempre che il nostro territorio è uno dei territori più virtuosi in Italia. Se noi non dobbiamo inventare nulla, dobbiamo semplicemente seguire quelle che sono le nostre risorse naturali. Parlo del turismo e dell'agroalimentare. Se noi seguiamo questi due segmenti sicuramente diventiamo uno dei territori più virtuosi in Italia. E lo dico con certezza di dati perché non c'è nessuno che mi può smentire questo perché noi praticamente di quello che produciamo trasformiamo poco, parlo dell'agroalimentare, trasformiamo non poco, pochissimo e quindi praticamente rendiamo altre regioni, altri territori virtuosi e ricchi. Quando potremmo farle noi? E visto che abbiamo qui la materia prima. Quindi l'invito è investire soprattutto per creare nuovo sviluppo e nuove figure imprenditoriali. Assolutamente sì, assolutamente sì. Fare sempre di più gli imprenditori. Va bene, io la ringrazio. Grazie a lei, arrivederla. Salve. Grazie.